Per aumentare le conoscenze degli studenti, l'Istituto Tramello propone questo nuovo convegno. Sì, oggi abbiamo la fortuna di avere il dottor Sacchegli, un esperto in neurochirurgia, perché l'Istituto Tramello quest'anno ha organizzato una serie di incontri di formazione per i ragazzi per la promozione della salute, che è uno degli obiettivi fondamentali del nostro piano dell'offerta formativa. Abbiamo già avuto un incontro sui tumori con il dottor Cavanna, un ricercatore dell'IFOM, e presto avremo anche un nuovo incontro con uno psicologo per parlare delle dipendenze legate al digitale. Oggi invece il dottor Sacchegli ci parlerà dei danni dell'utilizzo delle sostanze superfacenti e degli alcolici. Volevo ringraziare in particolare la professoressa Amoroso, che è la nostra insegnante di scienze, che ha coordinato questo ciclo di incontri per aiutare i ragazzi. I nimorosi incidenti stradali ripropongono per i giovani i danni che vengono causati appunto da alcol e droghe. Ecco, lei questa mattina terrà questo convegno qui per questi studenti. Cosa dirà? Allora, io cercherò, spero con parole che possano arrivare ai ragazzi, di spiegare quelli che sono gli effetti di queste sostanze sul cervello e quanto non ci sia questa reversibilità di cui si parla sempre. Cioè, il provare a volte già comporta il precludersi cose importanti. Quindi voglio che arrivi questo messaggio e cercherò di affrontarlo con i ragazzi. Ecco, ma dicono droghe leggere, droghe pesanti, ma tutte sono dannose? In diversa misura sono tutte dannose, ma soprattutto sono dannose in questa fase della crescita, dove il cervello si sta sviluppando, matura e esprime tutte le sue potenzialità. Quindi anche se può essere non un danno diretto, immediato, sicuramente ne pagano le conseguenze sullo sviluppo della loro personalità. Quindi, leggere o pesanti, al di là del fatto che possono portare anche a morte a volte, possono dare danni equivalente importanti.